buongiorno buongiorno a tutti cari telespettatori di fano tv benvenuti al nostro appuntamento consueto del mattino con la rassegna stampa una rassegna stampa questa mattina un po' diversa dal solito che come vedrete non leggeremo i quotidiani questa mattina perché abbiamo da raccontarvi un fatto che ci riguarda un fatto che ci riguarda da vicino un fatto purtroppo di cronaca ieri alle 20.53 la nostra emittente fano tv ha subito un atto incendiario un attentato incendiario un uomo come vedremo tra poco dalle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza posta davanti all'ingresso dell'emittente ha ripreso una persona probabilmente giovane che ad un certo punto ha versato del liquido infiammabile davanti all'ingresso al portone d'ingresso dell'emittente con l'intenzione di dar fuoco a quello che c'era all'interno il padre eterno ci ha messo le mani e per fortuna tutto rimasto circoscritto alla reception all'ingresso e dunque i danni possiamo dire così sono quelli materiali sono limitati certamente resta e lo vedremo anche in base a quelle che sono le immagini resta da parte nostra un po' di sconcerto certamente resta l'amarezza e restano tanti dubbi in questo momento indaga la polizia certamente ieri sera sono venuti qua i poliziotti gli agenti del commissariato di fano diretti dal dirigente stefano seretti hanno fatto tutte i loro primi rilievi oggi certamente ci sarà la denuncia e le indagini continueranno ringrazio e lo faccio già da adesso prima di vedere le immagini anche vigili del fuoco che sono venuti immediatamente con due squadre per spegnere l'incendio e poi soprattutto devo ringraziare i tre giovani che hanno segnalato le fiamme hanno dato subito l'allarme di questo poi nei dettagli entreremo nel telegiornale di questa sera questa mattina vediamo subito le immagini che appunto abbiamo che ha registrato la videocamera ecco questo quest'uomo che arriva davanti alla sede togliamo l'audio arriva davanti alla sede vedete controlla dentro che entra il liquido cosparge di benzina l'ingresso fa una sorta di miccia sul pavimento e poi da fuoco e guardate le fiamme che avvolgono completamente l'ingresso della nostra emittente l'ingresso della televisione e per fortuna ripeto per fortuna una parte limitatamente all'ingresso poi subito dietro c'è lo studio da dove vi stiamo trasmettendo in questo momento con tutte le apparecchiature sarebbe stato una tragedia un dramma e probabilmente non saremmo qui oggi a trasmettere se questo atto fosse arrivato fino fino in fondo vedete e guardate con quanta agilità poi scappa velocissimo quindi questo fa capire che è un giovane un giovane molto giovane agile scattante e questo è successo alle 20 e 53 esatte di ieri sera qualcuno si domanderà ma alle 20 e 53 eravate in onda sì eravamo in onda avevamo registrato il telegiornale pochi minuti prima gli ultimi due collaboratori dipendenti sono usciti alle 20 e 40 quindi soltanto una decina di minuti dopo quest'uomo è salito è salito su al primo piano e ha fatto quello che state vedendo quindi probabilmente si è appostato da qualche parte e ha aspettato che gli ultimi uscissero il perché non lo sappiamo non lo sappiamo non abbiamo mai ricevuto minacce personali certamente facendo questo di mestiere facendo l'informazione parlando e raccontando fatti ogni giorno nel nostro telegiornale nelle nostre assegne parliamo di tante cose parliamo anche di tanti fatti quindi probabilmente qualcuno si è sentito offeso probabilmente qualcuno si è sentito offeso non ha gradito magari il nostro modo di fare informazione o le cose che abbiamo detto e quindi agito in questo modo non sappiamo se la persona che ha materialmente ha piccato il fuoco è la persona interessata dal discorso può darsi anche che sia semplicemente l'esecutore materiale ci sia un mandante non lo sappiamo ancora e sono passate soltanto poche ore e al momento abbiamo solo queste immagini e tante tante domande nella nostra testa rientriamo in studio allora l'unico giornale che vi facciamo vedere è questo il Corriere Adriatico che ieri i colleghi sono riusciti ad avere la notizia subito e quindi sono riusciti a buttare giù un po di informazioni tra l'altro il titolo è danno fuoco la sede dell'emittente Fano TV dopo il telegiornale serale tentativo di scasso incendio con un liquido infiammabile ecco il tentativo di scasso in realtà non c'è stato in un primo momento sembrava che fosse un tentativo ci fosse un tentativo di scasso in realtà non è così c'era un buco ma è semplicemente un buco che era rimasto lì perché ci va l'apertura della porta elettrica è rimasto lì in attesa di poterlo ricollegare quindi sembrava i vigili del fuoco sembrava in un primo momento che ci fosse stato un tentativo di scasso poi in realtà abbiamo subito escluso questa cosa quindi non c'è stata la volontà di entrare dentro la sede semplicemente un atto forse dimostrativo non lo sappiamo ci stanno lavorando ci stiamo ragionando e soprattutto spetterà adesso alla polizia a cercare di capire un po' e soprattutto cercare di individuare l'autore di questo di questo gesto quindi questo è il titolo del Corriere Adriatico che oggi lo pubblica sulla pagina di Fano e questo è quello che dovevamo raccontarvi questa mattina ecco per ora ci salutiamo qua la chiudiamo qui ci rivedremo stasera alle 20.30 per il telegiornale occhio alla notizia dove ci saranno le altre notizie chiaramente della giornata più questa con eventuali aggiornamenti e cercheremo in un servizio o due insomma di ricostruire un po' quella che è stata per noi una giornata una serata anzi piuttosto lunga e difficile oggi probabilmente non sarà da meno ma cercheremo di metterci come sempre la nostra serenità la nostra professionalità cercheremo di arrivare stasera al telegiornale con dandovi quello che è il prodotto che vi diamo ogni giorno da 11 anni a questa parte bene ci fermiamo qui a voi tutti l'augurio di una buona giornata e arrivederci a questa sera Grazie a tutti